Bentre conferme in casa della Valentinas Bottegone per la prossima stagione di Serie D di basket restano in maglia giallo-nero tre over, il play guardi Alessio Paci e le due ali Luca Pratesi e Mirko Mugnai. Si tratta di tre tasselli fondamentali nello scacchiere di coach Maurizio Milani, oltre ad essere giocatori dotati di maggiore esperienza. Alessio Paci e Luca Pratesi sono due classi 85, per il primo si tratta di iniziare la sesta stagione a Bottegone, avendo vestito questa casacca in Serie B in divisione nazionale C, Serie D e promozione. Due anni più giovane Mirko Mugnai, terzo campionato alla Valentinas, da sempre uno dei più forti cecchini delle minors pistoiesi e non solo. Luca Pratesi invece è seconda stagione in giallo-nero ad alti livelli. Complici nuovi regolamenti imposti dalla federazione, le riconferme di questi tre giocatori hanno portato la società a dover salutare, solo dopo un anno dal suo ritorno, la guardia Riccardo Panconi. Un doveroso ringraziamento a Riccardo, ha detto coach Maurizio Milani, la scelta è stata fatta con la morte nel cuore. Per gli altri resta poco da dire, bandiera della squadra Paci, giocatore importante e talentuoso Mugnai. Pratesi ha saputo sacrificarsi nella scorsa stagione in un ruolo non suo. Quest'anno invece dovremo vederlo come alla piccola e sicuramente sarà un lusso per questo campionato averlo nell'organico.